Ogni anno 15.000 pitbull vengono utilizzati per combattimenti clandestini, ovviamente illegali. Alcuni muoiono, altri sopravvivono per combattere ancora. La loro non è una vita, è un inferno. Soldato pulce? Basta chiacchiere. Muoviamoli chiappe! Qui Torre! Torre chiama Battuglia! Battuglia siete in pista? Qui Torre chiama Battuglia ci siete? Affermativo Torre, mica siamo sordi, vi sentiamo forte e chiaro. Soldato Picchio, descrivimi un pitbull. Allora il pitbull è un cane muscoloso, affettuoso e molto fedele al suo padrone. Giusto Picchio! È dal 1800 che in Europa e poi in America, questo povero cane visto che è tosto, agile e coraggioso viene sfruttato dall'uomo per i combattimenti. Noi dei Bow Boys siamo andati a fondo e abbiamo steso un rapporto su degli ex combattenti. Perchè la verità è un dovere e il maltrattamento un crimine. Matilde, Sara, Liz. Solo poco tempo fa questi cani combattevano tra di loro. Ogni anno ne vengono utilizzati circa 15.000 per i combattimenti clandestini. 5.000 cadono sul campo di battaglia ma sopravvivere spesso non è una fortuna. Davanti a loro ancora l'inferno di altri combattimenti. Ma c'è qualcuno che vuole interrompere questo incubo e anche noi non rimarremo con le mani in mano. Sono a Torino ed incontro il nostro gancio. Sono il Sergente Berì dei Bow Boys. Ciao, io sono Elisa. Mi ho chiamato perchè hanno recuperato dei cani che sono maltrattati perchè li hanno fatti lottare tra loro e hanno bisogno di tante cure e tante coccole. Cara Elisa, ufficialmente sei uno dei Bow Boy. Vado a trovare i cagnolini bisognosi di coccole. Sono al canile dell'ente nazionale protezione animali. Incontro Paola, la responsabile del progetto ex combattenti. Questo progetto è in essere da una decina d'anni. Da quando nel 2002 sono stati sequestrati circa 22 cani dove c'erano 18 adulti e 4 cuccioli. Quei 4 cuccioli che sono stati trovati erano in una cassa al buio tenuti lontano dalla mamma. Chissà che cosa avevano già passato. Qual è lo scopo di questo progetto? Questi cani hanno bisogno che gli venga restituita la dignità. Dopo il primo sequestro abbiamo mantenuto segreta l'ubicazione dove tenevamo i cani per proteggerli. Certo. Sam per esempio era uno di questi cani conosciuto nell'ambiente. Il pericolo che potessero rivolerlo era alto. Perché con cani da combattimento quanto può valere? Sui 150.000 dollari. Paola mi spiega che il giro di affari annuo attorno ai combattimenti clandestini arriva a 300 milioni di euro. Ma come si svolge realmente un combattimento? Qui l'esperto è Marco, un vero eroe che insieme ad altri 300 volontari ha salvato centinaia di cani. Combattimenti fra i cani avvengono in posti come questi, in posti isolati. L'obiettivo è l'uccisione dell'altro cane o la sua riduzione in fin di vita. La crudeltà umana arriva a trasformare questi cani in sanguinarie macchine da combattimento. Vengono individuati nelle cucciolate gli animali particolarmente aggressivi e esuberanti. Quelli considerati idonei iniziano un'attività molto dura di allenamento. Uno dei metodi per aumentare l'aggressività del cane è un semplice sacco. L'animale viene inserito dentro questo sacco, viene chiuso, viene bastonato e poi questo sacco viene riaperto con un cane davanti. In questo modo il cane associa al dolore che ha provato l'immagine del cane. Questo è un altro semplicissimo ma, ahimè, efficace strumento di tortura. Col morso del cane attaccato al pneumatico, il pneumatico viene sollevato da terra addirittura fino a 10 metri. Questo tipo di trattamento permette di aumentare la muscolatura della mascella. Dopo questi maltrattamenti, il chiamarli ex combattenti non basta a cancellare il loro passato. I cani giunti al nostro centro di recupero sono arrivati con ferite profonde. Molti di questi cani hanno richiesto più di 100 punti di sutura solo al muso. I segni purtroppo sono visibili ancora oggi e lasciano una traccia indelebile sulla sofferenza di questi animali che noi cerchiamo di cancellare dalla loro psiche. C'è chi li dava per spacciati, ma insieme a Paola c'è un gruppo di angeli capitanati da giusi che sta credendo in loro. Quando arrivano sono terrorizzati non solo dalle persone, ma anche dall'ambiente. Uno dei nostri obiettivi più importanti è cercare di fargli superare quello che gli crea una sofferenza. Pascià, l'esempio di dove può arrivare la crudeltà umana. Pascià è un ex combattente che arriva da Sarajevo. Il costo per Pascià di combattere era altissimo. Quello che faceva il proprietario per poter gestire meglio questo suo stato emotivo era creare dei comportamenti alternativi, offrendo a lui dei cubetti di poffido dove il cane poteva scaricare tutto il suo stress. Per questo Pascià oggi si ritrova senza denti. Liz, la piccola principessa, un vero e proprio pangible canino. Liz purtroppo quando è arrivata era assolutamente depressa. Lei purtroppo ha dovuto proprio subire, non aveva neanche la possibilità di reagire a questi cani che gli venivano messi di fronte. Oggi Liz ha superato le paure delle richieste che l'uomo può avere nei suoi confronti. Sara, l'inventrice. Sara è la pitbullina che segna a livello fisico i danni dei combattimenti, non solo psicologici ma anche fisici. Purtroppo la sua schiena è inarcata proprio dai allenamenti eccessivi e atroci che subiscono. Per questi cani l'adozione a distanza è la prospettiva più probabile, ma per alcuni di loro possono aprirsi le porte di una vera casa, come è accaduto a Margot. Io e Margot ci siamo conosciute nel 2003 durante il mio volontariato in canile, primo ex combattente con cui sono stata a contatto, mi ha guardato negli occhi e mi ha conquistato. L'ho presa in adozione a distanza due anni in casa e adesso è sei anni che è a casa con noi. Giuse, allora abbiamo capito che ci sono due modi per adottare un ex combattente, il primo un'adozione a distanza. L'altra possibilità invece è quella proprio del reinserimento del cane, cioè l'adozione vera e propria, ma deve superare un esame. Il cane deve aver acquisito un garatteo canino che gli permette di essere inserito nella società. Le prove che vedrete, per un cane normale, pensate che sono prove semplici, banali, per un ex combattente sono prove importanti. Primo livello, passeggiare tranquillamente. Secondo livello, accettare la museruola senza ribellarsi. Terzo livello, non inseguire un bambino che corre. Quarto livello, essere toccati e coccolati senza infastidirsi. Quinto livello, accettare una visita veterinaria. Sesto livello, passeggiare con altro cane senza aggredirlo. Complimenti a tutta la squadra. Siete eccezionali, siete dei veri Bow Boys. E non solo, quattro amici hanno passato l'esame. Sono adottabili, possono entrare in una famiglia. E quindi... Missione Compiuta!